...con Giampiero Iacopini che come presidente d'Accademia Arte, cioè l'acronimo che coniuga l'attività musicale dell'Accademia Musicale di Firenze con l'attività artistica espositiva e da anni ci regala tante bellissime mostre e da qualche anno, da quando l'Accademia ha una sede anche a Città del Messico, delle mostre internazionali che avvicinano artisti fiorentini, qui c'è Mario Minarini che recentemente ha esposto la sua Firenze, la Firenze dei suoi quadri a Città del Messico, oggi questo scambio internazionale fra Messico e Italia si ribadisce la sua intensità con l'inaugurazione della mostra di Cosmerada. Intanto chi è Cosmerada? Cosmerada è un artista fotografo messicano che è anche tra l'altro il fotografo ufficiale della Camera dei Deputati del Parlamento Messicano, ma è anche un freelance perché lavora per diverse state giornalistiche messicane e non solo, Cosmerada è un artista, cioè questa mostra che stiamo facendo io a Firenze alla stamperia d'arte Beattini è una mostra che è stata combinata da Fabio, Fabio Casselli è dell'Accademia Musicale di Firenze, è il direttore, diciamo il presidente dell'Accademia di Arte di Florenza si è stabilita a Città del Messico, sono scambi culturali, infatti laggiù ha fatto alla Camera dei Deputati una mostra Mario Minarini che è un nostro artista fiorentino e oggi noi facciamo una mostra a Cosmerada che è un artista messicano.